Nel turbine di polemiche e discussioni, l'8 marzo ha fatto il suo ingresso in edicola il decimo numero del settantesimo anno dell'Espresso, già destinato a far parlare di sé. La scelta ardita di mettere in copertina l'affaire Ferragni, raffigurando l'influencer truccata da Joker, il sinistro antagonista di Batman, ha scatenato un'ondata di indignazione e critiche sui social, già nei primi istanti dopo la pubblicazione. Brutta e offensiva, ricordate che a una famiglia e dei figli, vergognosa, pessima, sono solo alcune delle reazioni taglienti che gli utenti hanno condiviso su Instagram, direttamente sul profilo dell'Espresso. Anche tra coloro che si considerano affezionati lettori del giornale, non mancano le critiche, soprattutto considerando il contesto simbolico dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna. La risposta non si è fatta attendere da parte dell'influencer stessa. Chiara Ferragni ha immediatamente incaricato i suoi legali di esaminare tutte le possibili azioni legali, compresa quella per danni materiali e morali, contro la società editrice. L'influencer è stata dipinta letteralmente come Joker, il famigerato pagliaccio triste e schizofrenico dei fumetti e dei film della DC Comics, sotto il titolo Ferragni Spa. Il lato oscuro dichiara, anticipando un'inchiesta sulla complessa rete societaria che circonda l'influencer e le sue attività imprenditoriali, con accenni a partner controversi, manager sotto inchiesta e bassi salari per i dipendenti. La controversia si è accesa ulteriormente per l'utilizzo di un'immagine ritoccata che molti considerano eccessiva rispetto alle azioni della Ferragni, soprattutto considerando le sanzioni dell'antitrust e le accuse di truffa legate alle campagne di vendita, pseudo-benefiche. Le opinioni sono discordi. Alcuni accusano l'Espresso di indulgere in un sensazionalismo fuori luogo per una rivista d'attualità, mentre altri vedono la copertina come un modo efficace per illustrare la figura pubblica di Chiara Ferragni nella sua complessità. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.